Provisità con si può fare una partita di prova per sapere se si può Dici per il provino? Per il provino piano piano provo tutti Mi dovete dare un attimo perché in coda c'è Papa Francesco II che mi ha chiesto di giocare Da sette anni, questo abbiamo rotti i coglioni Cosa pensavi, Margherita? È una gamba che abbiamo Nell'armadio da un po' di tempo Ed è il momento di farla uscire Bravo, è forte sto ragazzo Ragazzi, il Lucifer è veramente forte C'era un buco nel morco Tranquillo, Fra, sono Power Ranger Hai visto? A me sei brutta, Cristo Dio Tranquillo, sì Tu segui me Segui, segui me Me l'ho sparato, me l'ho meno preso Grazie al cazzo, è un FPS se ti sparano So che è brutto Non so mai So scudo di merda Avete messo il framework, vero? Sì, l'ho messo Ok, bravo Pensi mai agli scaletti nel tuo armadio? Sì, sì, lei non mutre tu Complimenti! Grandissimo! Ma sei fortissimo! Ma hai studiato Che cazzo c'è, le ti caga contro Ah, non vedi che cazzo c'è Uno, due, tre, quattro Aspetta un secondo, farò che questo non mi esce Fra, tu mi preoccupi con questa granata Ma si è messi, Gianfranco? Eh, Gianfranco, mi stanno sparando Anche se non mi vedono Stanno sparando? Capisco, capisco Ma, ti devo dire Complimenti Vabbè, io l'avevo anche ucciso Va bene Ok Buon pomeriggio Io, vivo Che gioco a Remus Oh Vabbè, regalo Aspettate che ce n'è uno lì Ah, penso sia impossibile Che io abbia tutta sta mira di merda, Lucifer Come cazzo faccio col controller, ragazzi A prendere quello in fondo Mi serve il Kronos Come faccio? Ok, ho preso il mozzi Chi ha preso il cazzo? Ho detto grazie? C'è quella che ha detto grazie? Ti devo dire Simpatica Sì Ma io dobbiamo Dove? D'ovo, d'ovo 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 Mazzu D'ovo 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 Ah, ho brecciato, dai. Cosa fa da come mi ha ucciso? Ma guarda quello sulle scale. E' proprio dentro le scale. Niente. Bellissima la tua faccia. Prima di rinforzare la battaglia. FNAF? No, FNAF l'abbiamo già fatto e fa cagare, ragazzi. FNAF è una mera. Eh, sarà FNUF. 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 E' uno pauroso. scp che cazzo è vabbè scp ma ragazzi ma che falle ma poi io c'ho aspettate io c'ho among us e quello nuovo che non si chiama among us quello di due la come si chiama quello la solo che non ci ho mai giocato qualcuno ce l'ha che giochiamo durante i sub day mi sei scocciato no no vabbè la classica partita di merda cazzo c'è ora che è lucifer nel sapac Sto un po' così Che mira di merda che c'ha Cosa sto vedendo Era anche logico Effettivamente non ci ho pensato Però era anche logico Mi sa che andremo Sul 0-3 Proviamo a difendere Facendo 3-0 Se c'è questo laboratorio dove tengono questi mostri Appunto gli SCP O ti prendono delle cavi umane per fare test Sì ma com'è il gameplay che devi fare La Mercury come stai Allora Uno Due Ma Lucifer ha fatto il coaching Della Senza Perfetta No, quello contro l'ha fatto La runicontro si L'ha fatto il mio coach Sarò molto fiero Per ragazzo Torn guide Guide L'ha fatto? Magari rinforzi questo? Questo No Certo Quello non lo rinforzi Cosa è? Cosa è? Prova Mi ti è rinforzato qui L'ha fatto? No No Ah no Lucifer si Lucifer ha fatto Coaching I time Sì 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 io l'ho fatto Ora purtroppo si è fermato E infatti E non è Perché mi piace Ehm Eh? Cosa io non è Ma ce n'è uno su scale C'è verdi Fuxi, arancioni, celesti Sì sì tutte le scale Ehm tutte le scale portano a rom E anche Napoli No Napoli te le rubano le scale Niente da sotto è morto qualcuno Ok c'è Sofia che mi verrà a rompere i mani da sotto Ok Te vai sul setto sta Te vai sul setto sta Te vai sul setto sta Mi ha dato Argus Ah ok sì perfetto Zero ha tirato una webcam sul Una webcam Minchia fa lo stream Webcam Certo Ciao a tutti i ragazzi Sono Zero Vedete perché Zero fa schifo roga Avete visto come si è sentito? Un po' una merda Zero Ok buono Treviso Ok c'era un drone che ci stava vedendo A me il drone A me in realtà Vabbè a te Lucifer Ok No raga però In chi è giusto giusto Cali mi doveva spuntare davanti Però zii questo C'è zio questo Bro Bro Chat queste sanno tante cose E tante cose se le mettono nel culo E tu ti sesi Non so sai E' rimasta Nomad Può essere può essere qui Può essere qui Buono 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 Secondo me c'è qualche Sniperino contro sapete Perché pure questa Cali Ok che aveva dronato Ma proprio capite Piccare quel buco preciso Sicurissimo Eh 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 Ci deve essere lui Quindi non c'è nessuno Eh 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 Buono Buono Ah scusate raga il gameplay sono un co***o Qualcuno è scoppiato con la mia Capcan ragazzi Quella che non si è vista Esattica È Eh Eh E Fox E Eh Infatti Diciamo Ma magari è Voleva sottenerlo per tutto Ma che cazzo dimmelo Ma pensavo loro si tenere tutto il round Certo, per tutta la live Dimmi deadshot, vorrei ammazzare il mio amico Scopos Deadshot Come la mettiamo deadshot Che cosa facciamo eh Deadshot Ma qua non c'è nessuno C'è uno qua P5 Dove? Eh l'ultimo quello, ok, nice Vabbè, meno male che le ho pingato quello lì Let's go Anonymous, buongiorno, come va? Nicola deve essere abbonato su Twitch E provo piano piano Domani ne provo altri Ok Buongiorno, io qua ho messo le trappole un po' ovunque Vediamo Vediamo C'è brava, c'è montagna o blitz, non lo so quale di due Però c'è uno che procura quello scopo Eh, te l'hanno regalato Stefano Da dove l'hai? Da sotto è entrato Corridoio morto Te l'hai regalata Nand e Stefano? C'è il pezzo È roccia Ma sei per lui T'ho la domanda Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì io no all'alto Sto vedendo 15秒 Gioca da vento Non mi fa tirare, non mi sto vedendo 15秒 Buono, bravo Ma perchè non crepi e stai zitto? Deadshot Perché non schermo così? Perchè secondo me stanno stessi ne parlando Quindi ora posso fare il provino Ora sei agibile a fare il provino Avete qualche cosa di questo Non potete fare lo provino Direttata per i compagni? Nooo Il gioco purtroppo ci ha messo in attacco Vabbè ma come sempre Cioè nel senso E' un Entri anche dall'altro lato Cazzo Cazzo vuoi? Sono... Sono messo Dai 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 lancia 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 Oh Ti levi un attimo Niente ha fatto bandit trick forse Si si bandit trick a sta minchia Vedi come si leva il bandit trick Ah, è bandit E' di trick sta beata minchia ora Vedi come si leva il bandit trick Guardate come si leva il bandit trick One and one Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.